Un'anziana donna di Montecchio Maggiore è ricoverata in gravi condizioni al San Bortolo di Vicenza dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali nel centro castellano. L'incidente questa mattina è intorno alle 9 in un passaggio pedonale semaforizzato. La donna, 76 anni, stava passando dall'altra parte della carreggiata in via Trieste lungo la regionale 11 all'altezza di Bertozzo Calzature quando è stata investita da una Volkswagen Polo in transito guidata da un'automobilista di Grazio. L'anziana è stata colpita solo di striscio dall'auto ma tanto è bastato per farla cadere e picchiare la testa. Non ha tuttavia perso conoscenza. Soccorsa dal 118 è stata trasportata in gravi condizioni in codice rosso al San Bortolo e ricoverata in rianimazione in prognosi riservata. Grazie per la visione!